Ultimo è uno dei più Solidi Se tu fai una ricerca commerciale dal 2001 Adesso il motore Principale economico Ultimo Della discografia mondiale sono le ragazze dai 12 Ai 17 Le Swifties Semplicemente quindi in Italia tu prendi quella La mamma e la nonna Hai vinto Sei baglioni con i tatuaggi Ma poi fotte Sei gagliardoni Questo non è Delicatorio Anzi per me Ultimo è uno dei più Solidi Che non ha mai cambiato Non è che per lui moda non cambia Lui ha detto alla wave Claudio Baione che i tatuaggi Sì sì è vero Verissimo